E' da un po' che vi sto tormentando con il pensiero unico e la pandemia emozionale. Guardiamoci intorno. Adesso il nuovo argomento di discussione è la caduta di Kabul. Le povere donne, il rischio di Al-Qaeda, del terrorismo, del fondamentalismo. Ci sono già quelli che dicono sì, basta con questa storia. State a preoccuparvi di avvelenarvi con un vaccino. O state a preoccuparvi di qualche limitazione per la vostra salute quando succedono questi drammi. Sì, come quelli che dicono ai bambini, ma guarda che fai i capricci. Pensa ai poveri bambini dell'Africa che muoiono di fame. Grazie. E se noi vedessimo la connessione tra il pensiero unico e l'identificazione emotiva con la quale si affronta questa situazione, cioè codice della guerra, retorica, codice della paura, retorica della guerra, e vedessimo quello che è successo in Afghanistan e prima in Libia e in Iraq e in Siria. Trilioni e trilioni di dollari, le più grandi potenze mondiali impegnate per vent'anni e prima i russi, o meglio i sovietici, eppure i talebani sulle loro scalcinate pick-up entrano in Kabul applauditi dalla popolazione. Proprio mentre per vent'anni la coalizione si occupava di combattere, i talebani crescevano, perché quelli che ci sono adesso sono cresciuti in questi vent'anni, mentre venivano spesi trilioni di dollari. non è che qualcuno si chiede cosa c'è che non va. Pensiero unico che divide noi e loro. Noi e loro. Il bene e il male. Combattere la guerra. Vincere. Sarà che è così difficile comprendere che potremmo cercare di vedere la complessità. Siamo tutti fratelli. Quello che assistiamo, quello che vediamo nel mondo è dentro di noi. Prendiamoci in carico. la nostra ignoranza. Prendiamoci in carico, la nostra arroganza di combattere, di avere la pretesa di vincere. Invece di dialogare, di ascoltare, di sentirci parte, non c'è questa separazione tra interno e esterno, tra soggetto e oggetto. le sento già le voci di qualcuno che mi dice sì, ma questo qui cosa sei? E l'albero, sei sotto, dimmi quando sarai sotto l'albero edifico del Buddha. Fai l'illuminato, fai il guru, il pensiero orientale, ma noi siamo in occidente. Sì. Questa è un'altra narrazione assurda. pensiero orientale, pensiero occidentale, ma dove? Ma provate a guardare la storia. Coloro che, i risvegliati, coloro che stanno in contatto con se stessi, coloro che perseguono la loro vera natura, coloro che urlano nel deserto, ci sono sempre stati in tutte le tradizioni e sono stati inascoltati. non sarà forse che dovremmo fermarci ad ascoltare con la voce interiore che ci dice guarda, prima di tutto le cose vanno come devono. lascia che sia, accetta, accetta, chi sei tu per inoridirti di fronte al burka? Chi sei tu? Triglioni di dollari e le donne sono ancora lì col burka, quindi evidentemente la tua strategia non ha funzionato. Ma cambiare no? Non vedi l'analogia tra l'opportunità che ci viene offerta rispondere in modo diverso a questa emergenza? Invece che mettere a disposizione il potenziale di fuoco delle multinazionali con le loro armi genetiche. Ma sarà così difficile? Ti immagini quanti campi di grano, quanti l'Afghanistan sarebbe diventato un giardino verde con tutti i miliardi, triliardi. La Libia, la Siria, l'Iraq tornerebbe ad essere il paradiso terrestre se i soldi venissero investiti con amore, comprensione e dialogo. Siamo tutti fratelli. porgendo l'altra guancia piuttosto che ascoltando la voce del cuore. Sarà così difficile? Sarà così difficile immaginarti fuori da questa scatola del dualismo, dell'identificazione emotiva, dell'identificazione emotiva, della separazione, del controllo, del potere. prova a immaginarti che segui la voce che ti parla dentro, che non è né orientale né occidentale. è semplicemente il maestro che ognuno ha dentro di sé e che certamente non spenderebbe trilioni di dollari per lasciare un paese nelle condizioni in cui lo lascia.